Ben trovati al meteo, torna a spingersi verso il nostro territorio la vasta circolazione ciclonica d'aria fredda, tra i suoi effetti spiccano una locale instabilità e frequenti fasi nuvolose. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 23 gennaio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso con frequenti precipitazioni un po' dappertutto, localmente saranno anche forti. A partire dal pomeriggio la perturbazione si farà via via meno intensa, potremo notare un miglioramento del tempo con momenti più asciutti e anche con ampie schiarite soleggiate, fenomeni in esaurimento entrosera. Temperature per ora sostanzialmente stazionari e minime tra lo 0 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove lo scenario sarà un po' diverso. Qui avremo un cielo coperto sin dal mattino con piogge estese per tutto il giorno, anche in questo caso migliorerà nella notte. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige dove il tempo sarà instabile con piogge e locali nevicate a bassa quota ma nel pomeriggio avremo maggiori parentesi asciutte e soleggiate. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Grazie.